Buone per la presentazione di questa seconda edizione del corso, se ci fai intanto un quadro un po' su come si dipanerà questo corso, quante ore ci sono e a quanti allievi si apre? Allora, il nostro corso risponde per accreditamento e riconoscimento al protocollo formativo del settore tecnico di Coverciano della federazione, quindi sostanzialmente l'impianto è il medesimo. Noi abbiamo allargato e modificato questo impianto nell'ottica di allargarlo non solo e consentire la finalizzazione all'abilitazione da direttore sportivo per l'elenco federale, ma anche per dare un quadro d'insieme del dirigente sportivo, quindi le nostre saranno 190 ore che saranno ripartite in 120 didattica di base, 30 di laboratori, tra cui abbiamo inserito un percorso specifico per la visione delle gare, per lo studio della contrattualistica e di tutte le norme legate al sistema organizzativo normativo federale, un percorso di inglese e un percorso di primo soccorso. E poi ci saranno due indirizzi a scelta dei corsisti, ciascuno di questi due avrà una durata di 40 ore, uno di impronta tecnico sportivo e uno di impronta legata alle dinamiche gestionali e amministrative. In più avremo una serie di seminari, 13 o 14, e degli incontri con i personaggi e le persone che vengono a dare il proprio contributo esperienziale, come per esempio oggi avremo il contributo e l'incontro in un dialogo con Gianluigi Buffon. Quindi cerchiamo di dare un impianto molto ampio, puntando a una multidisciplinarità e a una visione a 360 gradi della gestione societaria.